Volete che i comuni di Borgonovo e Ziano siano unificati in un unico comune mediante fusione? È il quesito principale a cui domani potranno rispondere con un sì oppure con un no gli 8.055 elettori che hanno diritto a esprimersi nel referendum che vede interessati i due territori della nostra Valtidone. A Borgonovo sono 5.822 e avranno a disposizione 7 seggi all'interno dei locali delle scuole elementarie medie oltre a quello speciale per l'ex istituto Andreoli. A Ziano invece i 2.233 aventi diritto potranno votare in tre seggi, due nel capoluogo nell'edificio scolastico lungo via Roma e uno nell'immobile che un tempo ospitava le scuole elementari di Vico Barone. Urne aperte dalle 7 alle 23 alla chiusura delle operazioni subito via allo spoglio. Il risultato dovrebbe arrivare nel giro di breve tempo e sarà consultabile anche sul nostro sito www.liberta.it. Accanto alla scheda grigia per approvare o meno il progetto di fusione gli elettori se ne vedranno consegnare un'altra di colore rosa destinata a stabilire il nome dell'eventuale nuovo comune. Le tre alternative sono Borgonovo e Ziano, Borgonovo-Ziano e Valtidone. Non è obbligatorio ritirare entrambe le schede. Per poter votare occorre avere con sé un documento di identità valido e la propria tessera elettorale. In caso di successo del sì i due comuni si fonderanno e daranno vita a una singola amministrazione a partire dal 1 gennaio 2017. Nel caso invece prevalessere i no, Borgonovo e Ziano rimarrebbero autonomi come sono oggi. E' questo il primo referendum per la fusione di comuni che interessa la nostra provincia anche se nei prossimi mesi ne dovrebbero arrivare altri visto che la regione ha autorizzato due progetti. Il primo tra Ponte dell'Olio e Vigolzone, il secondo tra Bettola, Farini e Ferriere.